E non risponde Ah sogno, per i porco Eh, ragione, che ti fai? Allora Sta trasendo Ah, mezz'ora che... Allora Sta trasendo Allora Sta trasendo, sei in diretta, zitta Bimba Sì Non è in diretta? Siamo in diretta Bombing Allora Allora Allora, aspetta che sono confusi Soglie, confuso, un bar Ah, ok Eh, tu, tu Ma tu, i tempi ti servono Allora, facciamo la ricognizione prima Tu te la senti di fare dieci minuti di ricognizione E per dieci minuti Se tu te la senti E io Infatti, per questo Allora, però mi devi dare un minuto Perché devo rifare l'assetto Che non l'ho salvato Buttana, c'è la miseria No, aspetta Atomobilista ancora io un poco Ma tipo, cioè, mi piace Le marce Marce Mettiamo, abbassiamo un po' per l'assoluto Per l'assoluto E così si sente Arriva la partenza con l'assetto Sì Giacca, facciamo un broghi forte Magari a benzina ne andaviamo un po', facciamo dieci litri Dai, ci arriva dieci litri Potenza cinquanto, facciamo quaranta per cento Va E rilascio Mi parto un po' dietro Quindi facciamo quaranta No Tu hai ragione Però io qua Sono imbrogliato Allora Ma poi stavo in avanti Per rubire Allora, se ti vuoi scrivere Sound Sì, in tuo sound Come si vedono i ping Tu li vedi Vabbè, tranquillo Perché sono in diretta Speriamo che non conosciamo l'oste Sennò spegniamo la diretta Allora Perfetto In linea, va Minchia E chi stiamo? Vabbè 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 Che stiamo facendo? Allora Quando dice Aspetta che devo togliere il Quale è sto tasto? No Allora Questo No, sto togli la macchina Ok, limitatore di velocità Ogni volta parto Vai Però non mi sta ferma la macchina Cazzo Come faccio a frenare? Vai Mi scende in discesa Puoi partire quando vuoi Non c'è lì No, io devo fare un po' di sbroglio Va bene come sono piazzato Va bene Va bene Ma che è? Cambia d'h Attenzione Da me è da un po' partire là Sinto punto attacco Ghetto fu bello Seconda? Sì Mauro Nesti Scusa Se mi sono permesso Però Ecco si Sazzeca la ruota La ruota interna Non girava Cioè Era vuoto Questa ricondiziona Siamo No Che bello Mi fa gasare Fai col cambio d'h Tu qua Tipo iuporn Infatti mi sa Cora youtube Non lo chiude Per pornografia Il video Secondo me non si sente niente Tipo l'olio sarà Ma che bello Che marciapiede Almo Ci marciapiede No, 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 no. Il mio obiettivo è battere tibari, eh? Ma che bello, ma come ne scio? Non mi ricordo quando è questa curva, ecco. No, 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 no. No, 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 no. 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 La benzina è quella che si vede, porca non c'è. In basso a destra dovresti trovare due e nove sotto il tachimetro, lo cerchiamo nell'LCD, assicuro quanto pubblico c'è durante la gara. La benzina è stata fatta del tachino, assicuro quanto pubblico, lo cerchiamo. La benzina è stata fatta del tachino. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Zero, tre. Che bella, signor! Ok. Ok. Ehm... Sì, sì, sì. Ok, puoi partire. Ok. 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 No. mi sono fatto prendere troppo la foca alle prime curve scusa ma ero onesti non volevo vengo a contraserzare ma che bel traverso che ho fatto le curve a lente va è l'alta velocità che va al giro però c'è pure l'antra e la sinistra rossa non so quindi ho spaccato la sospensione per l'assoluto mare gira gira non gira niente ci provo lo stesso arrivare perché comunque con la macchina con l'assoluto dovrei fare una buona posizione dato che niente eh non gira più proprio su bratti 140 va dritta ma dritta proprio ce l'ho fatta senza sbattere qua sto sudando madonna mia no 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 ce l'ho già però quando uscite che traversi l'uscita me non corre ah 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 pittà a a a a a a Sì 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 Sto camminando tipo N1 Nooo 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 Eh perchè No, guarda, non accelerare al fondo perchè so che tu hai sottosterzo Poi Vamo a caccelo a dare lo spettacolo al pubblico Troppo, troppo Troppo Ah, se lo puoi scusci Ma nooo Gira, gira, sì No 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 Ce la sto facendo senza la tenuta Miracolo L'ho preso due minuti in più però pazienza Ce la sto sudando Ti ho fatto la doccia proprio qua Sto sudando. Ti ho fatto la doccia proprio qua Sto sudando iplicio ti ho fatto la doccia proprio qua No, no, no. Ah, non gira. Ah, non gira. Ah, non gira. Ah, non gira. Sì, minchia, anzi che ce l'ho fatta. Tre minuti in più, però vabbè. Ah, non gira. Praticamente io ho messo la fisica di faccia. Scusa Giovanni. Oh, a posto. Per l'assoluto. 11 e 45, praticamente potevo fare 9 magari. Vabbè, a posto. Cautico si è scassato. Madonna mia, come sono. È talmente il lag, oh. È talmente il lag che ancora sembra un errore. Ah, scusa, io mi sono permesso che non c'è nessuno a fare la diretta, ma ovviamente quando sarà non la faccio. Che se si mangia la linea. Non è una cosa che non c'è nessuno. Che. Che.